Da questa mattina i giudici custodi della Costituzione erano lì, giornata che sembrava una qualunque, lì a decidere se bloccare il contratto degli statali fu legittimo o no, costituzionalmente, perché economicamente è un'altra storia. Come sempre ci sono le ragioni del sì e quelle del no, quelle del sì, blocco legittimo. Congelare la contrattazione degli statali fu necessario, l'avvocatura dello Stato porta, nella memoria difensiva, chiamiamola così, un argomento validissimo. In questo modo si evitarono i licenziamenti di molti dipendenti pubblici. Pagare meno, però, così. Pagare tutti, regola aurea da recessione. Se poi una cosa va detta e sottolineata, che niente e nessuno mai, come questo provvedimento, ha ricevuto un'anime e trasversale sostegno da un governo dopo l'altro. Fu varato da Berlusconi con Tremonti, era il 2010, Monti lo verificò e poi lo trasmise pari pari a Letta, che idealmente lo passò in eredità a Renzi. Tutti d'accordo e per cui la contrattazione degli stipendi statali è rimasta al palo da quasi sei anni. Però poi ci sono le ragioni del no, blocco illegittimo. Uno degli avvocati dei sindacati che hanno fatto ricorsa ha sottolineato che la misura ha toccato 10 milioni di italiani, cioè gli statali, circa 3 milioni e mezzo, e le loro famiglie, dove ci sono mogli e mariti, figli, magari parenti a carico. Decidere che il potere d'acquisto dei salari pubblici non doveva più essere difeso è stato ingiusto, perché ha privato una categoria, e solo una quindi, discriminata, di un diritto costituzionalmente garantito. Tutto qui, tra sì e no. Però, ed è uno dei passaggi determinanti, la Costituzione ora, all'articolo 81, prevede il pareggio di bilancio. Per farla breve e semplice, così come è accaduto con la sentenza recente, sempre della consulta, sull'adeguamento delle pensioni al costo della vita che ha obbligato il governo a una toppa finanziaria da un paio di miliardi, ci sono due diritti che un po' si scontrano, un po' cercano difficili equilibri. È vero che lo statale ha diritto a uno stipendio che si adegui, ma è vero altrettanto che, se lo Stato lo concede, deve spendere 35 miliardi di euro, questa è la cifra del costo del rientro. Costo che, oltre a valere una manovra finanziaria di quelle grasse e grosse già da sé, metterebbe a rischio il rispetto del nuovo dettato costituzionale del pareggio di bilancio. Ecco perché, forse, non era una giornata qualunque.